sicuramente mio fratello ha trovato un capolavoro, che bello davvero bello complimenti salvo ora cosa hai trovato Italo? guarda lì Italo sotto l'albero sotto una quercia dai su allora Italo sei stato fortunato anche stavolta guarda là dove l'hai trovato sotto le castagne non si trovava nulla ma alla fine Italo mio fratello ha trovato degli ovoli questi sono gli ovoli vedete attaccati nel terreno proprio che stacchiamo adesso uno come si chiama il latino questo questo è bello fatto al forno in padella guarda che bello che bello pigia abbiamo cambiato zona siamo andate a finire siamo sopra Saveria adesso Saveria Mannelli sempre una comunità montana nell'interlanda lamettino e ho trovato questo vediamo un po' Mauri ma è verde di sotto aspetta guarda 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 che bello guarda bello bravo bravo ce ne sono più possiamo andarcene aspetta 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 al senso un cantante la 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 etc grazie a mammaí colà la 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 Ho messo il polvo almeno proprio, e ho messo il polvo almeno perché parlavate prima. Paccetta nera, quella piscina, aspetta e spera che c'è l'ora in piscina, non saremo l'uncina a te, tutte le luci un'altore, nel favore della mezzia. Paccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che c'è l'ora in piscina, ma che in Bercena Mix? Sì.